Io sono la Gianna, abito qui a Gera Verzasca nel nucleo dei cano. L'importante che posso raccontare è una volta che c'era un brutto temporale e che il fiume che passa da parte della nostra casa era straripato e questo ci ha fatto veramente tanta paura perché l'acqua si alzava sempre di più, i sassi facevano sempre più rumore, il rumore dei sassi che rotolavano giù dalla montagna e lì c'erano anche delle auto che erano posteggiate e tutto questo acqua l'ha portato via. Quello lì era stato nel 1994-95, noi eravamo lì a casa e continuavamo a controllare e controllare finché noi siamo scappati, ci siamo allontanati dalla casa perché cominciava ad arrivare acqua anche dentro nella casa e quindi ci siamo spostati un po' più in là per essere più sicuri e ci siamo stati lì una mezz'oretta, poi a poco a poco siamo rientrati a casa. Il fiume si era un po' già limitato, abbiamo potuto rientrare in casa, però è stata veramente una brutta faccenda. Il fiume si era un po' già limitato, abbiamo potuto rientrare in casa, però è stato un po' già limitato, abbiamo potuto rientrare in casa,